Buongiorno a tutti da Atene, in Grecia, io sono il dottor Costa Nicolopoulos e vorrei ringraziare il team di ETHOS, Peter Wheeler, Joseph Harrison per avermi invitato a presentare questo webinar su ETHOS BTCP e vi farò vedere la mia esperienza degli ultimi 2-3 anni utilizzando ETHOS con impianti immediati a carico immediato quello che vi farò vedere è un lavoro che io faccio sia ad Atene che a Dubai ETHOS beta tricalcio fosfato è un materiale sintetico che è composto il 65% da beta fosfato tricalcico e 35% di solfato di calcio e arriva in una siringa e bisogna aggiungere della soluzione fisiologica nella siringa mischiarlo nella siringa e poi iniettarlo anche se secondo la mia esperienza e so che il team di ETHOS ci sta lavorando per migliorare questo la siringa è un po' troppo larga il diametro è un po' troppo larga quindi nella mia opinione dovrebbe essere un po' più stretto il diametro uscirà una versione nuova di una siringa migliorata a breve intanto come io la utilizzo è con un Dappen mettere la quantità che volete usare in un piccolo Dappen aggiungere un po' di soluzione fisiologica qualche goccia mischiarlo della consistenza che vuoi io preferisco che sia un pochettino più asciutto così che il materiale si appiccichi proprio alla spatola e non cada così non cadrà in giro nella bocca del paziente e una volta che prendo quella quantità e ne voglio utilizzare di più aggiungo un pochettino di soluzione fisiologica in quello che è avanzato nel Dappen così non lo spreco un'altra cosa è che mentre lo utilizziamo e mentre lavoriamo un po' del materiale che c'è nel Dappen indurisce e quello che dobbiamo fare è aggiungere sia un po' di polvere che un po' di soluzione fisiologica per renderlo utilizzabile adesso vi farò vedere un po' di casi questo è il primo caso è il 21 quindi un centrale superiore come potete vedere chiaramente non c'è più osso vestibolare c'è una radiotrasparenza significativa quindi abbiamo estratto il dente abbiamo tolto il tessuto di granulazione a sinistra è preoperatorio abbiamo pulito bene a me piace utilizzare una fresa molto lunga non mi piace utilizzare una prolunga perché una prolunga crea un po' di vibrazioni quindi rimuovo il tessuto di granulazione preparo il sito con l'osteotomia e come potete vedere sulla vostra destra uso una guida in silicone che ho costruito prima dell'estrazione poi metto un indicatore di direzione di 12 gradi così io so che il mio impianto è angolato nella giusta maniera per avere una ottima ritenzione della vite a questo punto metto un mix di etos e lo metto nell'alveolo prima di mettere l'impianto e lo metto soprattutto nella regione vestibolare vi farò rivedere il video in questo momento per farvi notare che mentre metto il materiale la gengiva si muove perché non c'è più osso vestibolare guardate come si muove il tessuto molle mi piace riempirlo abbastanza in questo caso in altri casi non c'è bisogno di metterne così tanto ne metterò di meno e ancora ne metto di più questo è il secondo materiale che metto vedete che essendo un po' più asciutto si riesce a maneggiare meglio se fosse più bagnato o umido andrebbe un po' in giro a questo punto prendo l'impianto questo è un southern inverted implant che è un po' più spesso apicalmente rispetto a coronalmente lasciando un po' di spazio per l'innesto lascio spazio per la formazione dell'osso abbiamo un'altissima stabilità primaria con questi impianti perché la parte apicale che è più larga ingaggia meglio l'osso apicalmente abbiamo 90 newton su centimetro di stabilità e reghiamo bene è molto importante pulire molto bene la superficie dell'impianto che rimane esposta perché se qualche granulo di etos rimanesse in quella zona l'impronta non verrebbe precisa e l'abatment non ci starebbe bene questo è un cilindro in zirconia che proviamo perché hanno diversi diametri e questo è il più appropriato lascia il giusto spazio per la ricostruzione e il laboratorio è pronto a costruire la ceramica in tre ore a questo punto prendo l'impronta un'impronta aperta questo è un silicone monofase dopo qualche minuto in due minuti e mezzo il tecnico è pronto per costruire questa corona in zirconia avvitata puliamo bene mettiamo la vita di guarigione che non è della dimensione corretta ma è solo per qualche ora mettiamo ancora di più etos con una tecnica diciamo stratificata come Genostrado e Steve Chu ci hanno insegnato mettiamo ancora etos nella regione vestibolare sotto il tessuto e molle tra la gengiva e l'impianto e la vita di guarigione e questo è lo stesso giorno dell'operazione mentre aspettiamo che il laboratorio costruisca la corona avvitata facciamo una combi vediamo che c'è l'osso ricostruito bene vestibolare questo è il giorno dell'intervento proprio questo è a 18 mesi post-operatorio qualche mese fa un anno e mezzo dopo possiamo vedere come l'osso vestibolare si sia rimodellato e sia molto stabile questo per me è un risultato fantastico con uno sforzo minimo e questa è l'immagine clinica l'unica criticità che sicuramente possiamo risolvere è questa piccola macchia sulla gengiva che non so dirvi esattamente perché ci sia ma quando toglieremo il dente e puliremo bene l'aria probabilmente se ne andrà ma nel complesso è un risultato fantastico guardate i tessuti molli che sono addirittura migliori del dente vicino c'è una piccola infiammazione sul 21 mentre l'11 non ha nessuna infiammazione proprio questo è il caso numero 2 qualcosa di simile ma con una componente di malattia paradontale in più questo paziente dovrebbe avere molte estrazioni ma non ha voluto fare ciò voleva solo trattare il 21 ha capito che aveva altri problemi ma non voleva trattarli in questo momento è arrivata in urgenza con un 21 molto mobile potete vedere dove è il livello dell'osso ho estratto il 21 ho utilizzato una tecnica simile e questo è il risultato dopo una settimana dall'operazione potete vedere fin dove arriva l'osso ricostruito l'osso sintetico e questo è un anno dopo è incredibile come si è riformato osso una cosa che non abbiamo mai visto prima con altri materiali da innesto questo è il risultato che vedete bene con etos adesso c'è proprio osso nuovo non c'è più etos questo è anche un caso molto interessante il dente è l'11 centrale superiore di destra ha avuto un trauma precedente guardate come si è riassorbita la radice la linea del sorriso è moderata anche un po' alta quindi non vogliamo perdere nessuno di quel tessuto molle questo dente purtroppo è perso non ha prognosi va estratto noi utilizziamo in questo caso la pet therapy che sarebbe un'estrazione parziale della radice vorrei ringraziare Howard Gluckman per questa tecnica potete vedere che ho tagliato la corona dell'11 non l'ho buttata via l'ho data al laboratorio così potessero copiare la forma e il colore esattamente siamo andati avanti con la nostra tecnica utilizzando una lunga fresa rotondata che parte proprio di un kit della Megagen e ho utilizzato questa tecnica per estrarre per estrarre l'apice rimanente e la gutta perca rimasta potete anche utilizzare una fresa lunga su un manipolo dritto di diamantata facciamo una lastra per verificare che non ci sia più apice o gutta perca potete vedere parte dello scudo rimasto vestibolarmente lo scudo della radice clinicamente lo vedete molto bene questo è sempre una fresa dedicata per l'impianto che è sempre un southern invertito questo è di 12 gradi avete visto come è lunga la fresa ancora prendo un po' di polvere di etos quanta ne ho bisogno nel dappen e aggiungo la soluzione fisiologica due gocce e mischio per fare una miscela un po' più asciutta che stia attaccata bene al mio strumento tra un po' vi farò vedere che tipo di strumento è posso muoverlo e non cade lo prendiamo e lo portiamo in bocca al paziente ecco qui lo strumento di cui vi parlavo è un po' più largo da una parte è una parte più stretta potiamo usare di solito usiamo la parte più stretta questi sono i codici della U3D questo lo uso sia per mischiare il materiale che per trasferirlo nell'alveolo e questi sono i plugger che usiamo sempre di U3D e lì c'è il codice per chi fosse interessato questi sono gli strumenti poi utilizziamo anche altri strumenti se ci sono siti un po' più stretti o un po' più larghi questo viene da un set di José Carlo la rossa del Brasile trasferisco il materiale guardate come sta bene adeso lo metto proprio tra lo scudo che è rimasto che è rimasto della radice e dove metterò l'impianto questo lascerà uno spazio per mettere l'impianto guardate quando tolgo lo strumento cosa succede il materiale rimane lì questo è molto utile eccolo lì lo vedete è sulla parte vestibolare tra lo scudo della radice rimasta e l'osteotomia che ho fatto per l'impianto che ho preparato per l'impianto la modelliamo bene dove la vogliamo mettere questo è un impianto sempre invertito che significa appunto che la parte apicale è più larga di quella coronale per lasciare un po' di spazio per lo scudo della radice e per l'ethos lo mettiamo a 12 gradi che è esattamente dove lo vogliamo per la ritenzione della vite generalmente abbiamo una stabilità primaria molto alta dovete avvitare molto bene questa è l'estensione la prolunga per la fixio che avvita l'impianto e avvitate bene l'importante è fermare l'impianto al giusto orientamento quindi se potete vedere c'è una fossetta sulla parte vestibolare quindi dovete quindi dovete guardare intanto che avvitare per vedere dove fermarvi esattamente con questo orientamento dove c'è la fossetta la vedete vestibolare sul lato labiale una incredibile stabilità primaria arriva a 101 newton per centimetro noi che ci sentiamo molto forti perché abbiamo a Dubai siamo che abbiamo siamo arrivati a 100 newton per centimetro spesso è necessario modellare l'osso profilare l'osso come si dice in America altrimenti potreste avere qualche spicola ossea che interferisce poi con il posizionamento dell'abatment in futuro una piccola vite capuccio che protegge l'impianto e abbiamo tolto qualche osso che potesse interferire a questo punto puliamo benissimo l'area non vogliamo tessuti molli non vogliamo nessun etos sulla piattaforma e possiamo mettere la vite di guarigione prendiamo prendiamo il cilindro in zirconia che deve stare molto bene avere un bel fit se no vado ancora con la fresa a rimodellare l'osso è perfetta per la ritenzione della vita la tolgo metto una vite un transfert che deve stare bene a ingaggiare bene la vite se non sei sicuro puoi fare una lastra ma io lo sento che fa un bel rumore un click e adesso siamo pronti per fare l'impronta asciughiamo bene con una garza sterile e questa è l'impronta notate bene che l'impronta si estende nel solco così abbiamo un perfetto profilo di emergenza perché l'estrazione l'abbiamo fatta un'ora fa quindi questo è proprio il vero profilo di emergenza e questo è dopo 4-5 ore dopo stesso giorno e abbiamo messo la corona provvisoria potete vedere il nostro socket shield lo scudo della radice se avessi tolto quello probabilmente avrei perso osso vestibolare e poi abbiamo anche etos tra l'impianto e quello che rimane della radice così non avremo nessuna perita di osso di tessuti molli di niente questo è il caso stesso giorno qualche ora dopo certo il paziente ha appena avuto un intervento chirurgico quindi la gengiva è leggermente un colore diverso adesso guardiamo in questo caso come utilizziamo etos l'impianto invertito e versa tutte queste cose per creare un caso ottimale questo è il nostro paziente numero 4 ha una parodontite avanzata perso osso vestibolare specialmente sul 21 certo facciamo una pulizia di tutta la bocca full mouth e volevamo estrarre tutti i denti superiori e anche quelli posteriori inferiori questa è la combine vediamo in questo caso noi abbiamo estratto il 21 questa è la fresa invertita dedicata quella finale che si usa alla fine tapered 12 gradi come direzione questo è l'indicatore questa è la nostra guida in silicone per guidarci per vedere che siamo nella giusta posizione questo è l'impianto questo è uno dei primi casi che ho fatto prima ho messo l'impianto e poi ho messo etos adesso non faccio più così puoi fare anche così possibilmente è più facile mettere l'ethos prima perché qui utilizzavo ancora etos direttamente dalla siringa cosa che non faccio più la metto in un dappene lo mischio come vi ho fatto vedere vedete che bella stabilità primaria vedete la linea nera su quella fixture deve essere nascosta quel metallo lì bisogna inserirlo tutto bisogna stringere ancora metteremo più abatment in questo caso quindi ne metteremo uno per volta dobbiamo pulire bene ogni volta 45 newton per centimetro e non lo togli mai lasci l'abatment lì quando fai impianti multipli ne metti uno per volta pulisci bene e metti l'abatment e lo lasci lì guardate il gap lo spazio che c'è tra l'impianto e i tessuti vestibolari e adesso ho preso etos direttamente dalla siringa non l'ho mischiato e lo trasferisco piano piano pezzettino per pezzettino nel vuoto nel gap con la siringa ne aggiungo ancora un po' lo compatto bene nel gap tra l'impianto e la gengiva vestibolarmente questo è il paziente al primo giorno post-operatorio abbiamo pulito bene abbiamo fatto un po' di trattamento parodontale per le anteriori e questo è il paziente a sette giorni post-operatorio e guardate che bel osso vestibolare che c'è tra l'impianto vestibolarmente questo è l'11 questo è il 13 e questo è il 21 questo è quello che vi ho fatto vedere questo qua questi numeri è lo spessore dell'osso vestibolare 3-3 2-6 3-3 certo diamo al paziente un night guard un bite e questo è il caso e dopo 18 mesi penso che sia un risultato molto bello prossimo caso numero 5 il dente numero 16 e usiamo un sudden max impianto l'impianto cosa abbiamo fatto? abbiamo estratto il dente il dente il 16 abbiamo creato un socket shield uno scudo della radice della parte vestibolare ma abbiamo un grosso e l'osteotomia che abbiamo fatto per l'impianto quindi cosa abbiamo fatto? abbiamo messo etos lì quindi abbiamo lo scudo della radice etos e poi l'impianto mettiamo l'impianto 7 diametro e 11 di lunghezza una stabilità primaria incredibile con questo impianto questo è per inserire l'impianto lungo che utilizziamo per i posteriori hai un ottimo controllo con questo inseritore perché non devi muovere il gomito troppo con questo con questo inseritore devi solo muovere le dita per muovere questo inseritore zigomatico guardate bene questo socket shield questo scudo della radice sulla lastra guardate come utilizziamo la guida in silicone così io posso essere sicuro che il mio impianto non è posizionato troppo vestibolarmente lo voglio esattamente nel centro perché la vite si ritenga bene attenzione ad avere questo è a 100 cm newton quindi questo impianto può essere caricato subito vogliamo farlo andare un po' più in profondità perché la linea nera deve andare proprio al di sotto dello zenith della gengiva ve la rifaccio vedere come la linea nera sparisce sotto vogliamo che sia 3 mm sotto la gengiva o anche 4 in questo caso ancora 100 newton per centimetro non c'è problema mettiamo una vite di guarigione un po' più larga in zirconia il laboratorio così può stratificare la ceramica per bene e avere abbastanza spazio per farlo questa è l'impronta sempre aperta come al solito questo è proprio in tempo reale un materiale monofasico che ci mette solo 2 minuti e mezzo a indurire un silicone e dopo 2 minuti e mezzo possiamo rimuoverlo darlo al laboratorio e da 4 a 6 ore dopo questo è quello che otteniamo un dente permanente eccolo lì questo è post-operatorio questo è un altro caso con una radiotrasparenza importante il dente è il 35 qui è un dente che è fallito un trattamento edodontico quindi devo estrarre il 35 e nucleare questo granuloma periapicale mettere dell'ethos e mettere un impianto di 6 mm di diametro per 15 mm e se hai una stabilità primaria ottimale puoi caricarlo subito in questo caso è stato caricato subito questa è una con bin a 3 mesi potete vedere dove è stato messo l'ethos qui questo è pre-operatorio e questo è 14 mesi dall'intervento guardate che bella immagine sia clinicalmente tessuti molli come stanno bene è un dente in ceramica è in zirconia scusate ceramica sopra alla zirconia e guardate alla lastra che bello osso che c'è vestibularmente che rigenerazione incredibile non posso dirvi se è 100% osso rigenerato perché non faccio le istologie ma etos e la sua accademia ha fatto molti studi e hanno visto che proprio c'è rigenerazione ossea completa istologicamente io non faccio l'esame storico io neanche apro per controllare ma qualcuno lo deve fare e loro lo fanno vedono che a 12 settimane si ricrea il 50% di nuovo osso e ci mette circa un anno per rigenerarsi completamente osso questo è il dente numero 25 abbiamo estratto il dente abbiamo rimosso tutto il tessuto di granulazione abbiamo messo etos abbiamo messo un impianto immediato questo è prima e dopo guardate come abbiamo messo bene etos vestibularmente stratificato guardate l'immagine radiografica quell'area intorno all'impianto in alto a sinistra è tutto etos e guardate l'area adesso questo è dopo 7 mesi si vede proprio che è osso trabecolato tornerò indietro ve lo rifaccio vedere guardate qua qui si vede che c'è un innesto che è l'ethos e 7 mesi dopo sembra proprio osso questa è la cbct a 7 mesi questo è un caso un pochino più leggermente diverso il dente è il 16 un granuloma periapicale ha fatto perdere osso vestibularmente vogliamo un pochino aumentare il seno il pavimento del seno useremo etos per l'aumento del seno e questo è quello che raggiungiamo vedete come etos e sia proprio lassù qui e qui ancora due casi in questo caso abbiamo deciso che aveva bisogno di una bonifica dopo una lunga riflessione nella zona del 25 avevamo veramente poco osso quindi il piano era proprio di aggiungere etos per aumentare aumentare il pavimento del seno un dente incluso qua in basso che è molto vicino al forame mentoniero quindi non lo tocchiamo quando abbiamo rimosso il 46 era parzialmente esposto questo incluso quindi abbiamo utilizzato etos per richiudere quel dente nell'osso qui qui potete vedere etos lassù sul 25 come ho alzato il seno rialzato il seno con etos e potete vederlo qua giù sul dente incluso e quello che vi voglio dire è che utilizzando questi materiali in vari modi e con questi impianti si può ottenere un bel risultato quindi etos è uno di quei materiali da avere nel vostro armeglietto per ottimizzare i casi nei casi anche un po' più difficili ma io utilizzo etos praticamente nella maggior parte dei casi perché non sempre devo mettere dei materiali da innesto ma se devo fare un innesto etos è un materiale che viene completamente sostituito da osso e l'altra cosa importante di etos è che ha una bassissima incidenza di infezioni post-operatorie diversamente dagli innesti eterologhi eterologhi e questo perché questo perché etos ha una bassa infezione perché medicalmente si sa che il solfato di calcio e 35% di etos è solfato di calcio ed è batterio statico questo significa che non permette ai batteri di moltiplicarsi li impedisce di crescere è batterio statico è batterio statico non battericida quindi questo è perché non vediamo infezioni con etos per il solfato di calcio che ha un potere batterio statico e l'altra ragione è che fosfato e calcio sono elementi inorganici non sono materiali interessanti per i batteri per crescere mentre con un innesto eterologo è come dare da mangiare ai batteri quindi con questo materiale etos anche se lo metti in un'area infettata cronicamente sempre che tu pulisca bene qualche battere rimarrà e non vedi queste infezioni io non le vedo le infezioni e non le vede la maggior parte delle persone che utilizza etos c'è una bassissima percentuale di casi che si infettano questo è lo stesso paziente tre mesi dopo guardate bene dov'è il pavimento del seno sul 26 questo è dove c'era il pavimento del seno dove c'è la mia freccia e guardate adesso come etos l'ha proprio rialzato ha creato un rialzo di seno e anche guardate il 45 dove c'era quel premolare incluso e come si è riformato l'osso al di sopra di questo che prima era esposto quindi adesso c'è tessuto molle che copre bene e etos verrà proprio trasformato in osso quindi abbiamo evitato una grossa operazione perché era ad alto rischio di lesionare il nervo questo è il giorno dieci dieci giorni dopo ha avuto questi denti nuovi questo è fantastico etos ci ha aiutato tantissimo questo è l'ultimo caso che vi farò vedere è un caso di perio avanzato abbiamo fatto dei socket shield quindi preservato le radici in certi punti abbiamo fatto socket shield in questi denti inferiori ma noi ci concentreremo adesso su quest' area il primo quadrante possiamo utilizzare questa tecnica dove non c'è osso e vogliamo anche fare carico immediato quindi quest' area qui e anche questa tuberosità vogliamo mettere un impianto qui 4 millimetri qui ecco qua il canino quindi come facciamo questo mischiamo etos in un dappen con qualche goccia di soluzione fisiologica ricordatevi quello che dicevo quando usate questo strumento io fridi sta appiccicato bene e possiamo trasferirlo nell'area del 17 quindi guardate la lastra lassù e guardate come stratifichiamo bene con questo plugger questo misto un po' asciutto di etos come se fosse neve fresca e utilizziamo poi questa fresa in senso anti-orario per spingere il materiale un pochino nel seno a questo punto mettiamo il nostro sudden implant un impianto 45 newton per centimetro è la stabilità che deve avere vediamo che torque abbiamo per l'inserzione ne abbiamo 45 45 newton per centimetro preferiremo un po' di più uso il torque di 100 newton per centimetro così sono più contento di 45 45 è border caso al limite diciamo ma 70 va bene togliamo la fixture amount dobbiamo essere sicuri che tutto sia asciutto che non ci sia polvere di etos sulla piattaforma dell'impianto mettiamo l'abatment uno pulito per volta e vogliamo farlo andare un pochino più in profondità l'impianto e l'abatment insieme 70 newton per centimetro abatment e vite di guarigione quindi adesso voglio mettere l'impianto in mezzo nel primo quadrante quello lì abbiamo solo 3 mm di osso alveolare è rimasto quindi noi adesso col plugger stratifichiamo etos dove abbiamo fatto il rialzo di seno per via cristale guardate bene come sta insieme perché è un misto corretto ed è meglio secondo me mischiarlo in un d'appen piuttosto che mischiarlo nella siringa col plugger lo spingo dentro con questa presa al reverso lo spingo ogni volta che entro io sollevo il seno ogni volta che metto un nuovo etos e uso questa presa state guadagnando un millimetro in più di altezza ancora adesso entro con la presa pilota che ho utilizzato prima non mi ricordo bene la dimensione 3-5 mi sembra e ancora un millimetro che ho guadagnato e metto altro etos per tutte le volte che ho pensato che è necessario per mettere un impianto se voglio mettere un impianto di 10 e ho 4 millimetri residui dovrò metterne per 6-7 volte guardate la lastra voglio etos lassù dovrò metterlo x numero di volte quindi ne metto ancora perché ho bisogno di avere un'altezza maggiore la fresa non dovrebbe mai superare il pavimento del seno di 2-3 millimetri questo è parte del protocollo sempre in verso anti-orario per non rompere la membrana se non si supera il pavimento più di 2-3 millimetri non c'è rischio di rompere la membrana se vai di più probabilmente romperai la membrana quindi io vado 2 millimetri dentro il pavimento 2 millimetri sempre anche se hai messo più osso più etos comunque stai 2 millimetri massimo dentro al pavimento guardate bene come mi guida questa fresa chirurgica non l'ho messo troppo vestibolare l'ho messo esattamente dove deve essere la mia guida in silicone mi guida l'abbiamo utilizzato grazie alla protesi parziale del paziente questo guida in silicone guardate bene che deve scomparire la linea nera sotto i tessuti quella linea nera è a 3 millimetri dal livello dell'impianto torque abbiamo un torque vicino a 90 newton per centimetri con solo 4 millimetri di osso residuo osso nativo 4 millimetri con un rialzo di seno per via cristale e abbiamo una stabilità primaria così alta sto usando un inseritore zigomatico per andare un po' più in profondità adesso rimuovo la fixture mount metto sempre l'abatment uno per volto una per volta dopo aver pulito tutto bene e non lo tolgo mai questo è lo stesso giorno guardate il rialzo di seno sul 15 avevamo 3 4 millimetri di osso residuo e questo è il giorno 13 dove è arrivato il permanente in zirconia sono avvitate sono ceramiche avvitate e zirconia internamente questo è un risultato fantastico grazie ai materiali che abbiamo nel nostro armadio di cui etos è uno di quelli importantissimi vorrei ringraziarvi per il vostro tempo per aver guardato questo webinar grazie grazie alla mia famiglia alle mie figlie per la pazienza e supporto se adesso ci sono delle domande la prima domanda chiede non riesco a sentire bene qual è il torque minimo per caricare immediatamente una bellissima domanda c'è un ragazzo in italia che si chiama Paolo Trissi lui è considerato l'autorità o una delle autorità mondiali sul sul torque che ci vuole nella stabilità primaria per il carico immediato e lui dice basandosi su studi clinici e anche animali Paolo Trissi una pubblicazione del 2016 e dice che c'è bisogno un minimo di torque di 45 N per centimetro così come una risonanza di 68 quindi hai bisogno entrambi 45 N per centimetro di torque e anche un valore di 68 misurato con qualche con qualche strumento per misurarlo questo è scientificamente la risposta grazie hanno anche chiesto se non vuoi caricare immediatamente come fai a lasciare etos senza una membrana avrete notato che in tutti i casi che ho fatto vedere oggi non c'era mai un lembo quindi se non era un lembo il problema è risolto perché metti etos con qualche strumento come vi ho fatto vedere o si crea un gap tra l'impianto e l'osso vestibolare lo inietti se elevi un lembo è un po' diverso perché poi dovrai usare un mix un po' asciutto metterlo mettere una garza aspettare che si indurisca qualche minuto e poi di solito sta lì ma per quanto riguarda la membrana il solfato di calcio si comporta come una membrana e stabilizza il materiale non hai bisogno di una membrana questo è quello che ci dicono dall'azienda e come noi lo utilizziamo non usiamo membrane un'altra domanda quanto devi aspettare per mettere l'impianto nell'osteotomia dopo che hai posizionato etos allora non c'è bisogno di correre io lo metto e certo se non c'è saliva del paziente il paziente non si muove il materiale non si muove se lo tieni se lo tieni relativamente isolato eviti che il paziente metta le sue mani lì puoi aspettare qualche minuto non devi mettere immediatamente l'impianto quindi non è fondamentale mettere l'impianto immediatamente dopo etos preferiamo aspettare qualche minuto un'altra domanda hai mai provato a mischare etos con PRF per fare un osso più appiccicoso no non l'ho mai fatto ci ho pensato ma non l'ho mai fatto un'altra domanda cosa succede se etos finisce nel seno allora se qualcosa entra nel seno la cosa migliore che ci possa entrare è proprio etos perché è proprio calcio solfato e fosfato quindi non fa proprio niente sarà direzionato dalle ciglia del seno dalla mucosa del seno verso l'ostio certo l'ostio deve essere aperto ma questo per forza e sarà andrà nella cavità nasale e se ne andrà non è un problema invece se avrai un innesto eterologo nel seno è un problema potenziale ma se etos finisce nel seno cosa che ovviamente non vogliamo ma se lo dovesse fare sparirebbe quindi è molto sicuro in quel senso grazie questo è tutto quello che abbiamo vi ringraziamo per essere stati con noi se avete ancora domande potete mandare una e-mail grazie dottor Costa per il suo tempo e per questo fantastico webinar è il mio piacere grazie per avermi invitato